Lei è una benedizione, signor Clay. Questo posto era tutto erbaccio e gramigni e lei l'ha riportato in vita. Io e la signora Parker eravamo amici. Era una di famiglia. L'unica persona che si sia mai presa cura di me. Mi è appena arrivato un messaggio per un problema con il mio computer. Sì, signora, ora risolviamo. Ieri si è suicidata. Questa è proprietà privata. Sapete che fanno qui? Trofano i più deboli della società. Ora conto fino a tre. Uno, due, tre. Ecco, l'ho fatto io per te. Adesso rado questo posto al suolo. Me lo sbattete fuori, cazzo! Tutto questo l'ha fatto un solo uomo. E l'unica cosa che sai è che è un'abicoltore. Intendi un vero Beekeeper. Questo non va bene. Il Beekeeper è un programma speciale al di fuori della catena di comando. Proteggo l'alveare. Quando il sistema è squilibrato, io lo correggo. Abbiamo la legge per queste cose! Finché non fallisce, poi avete me. le mie dita me le ha amputate. Ma che cazzo fai? Non ti muovere. Non, 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 non! È molto di più di una semplice truffa in rete. I soldi li mandano in tutto il mondo. Agente della finanza, perfino ai governi. Tu sei un problema. Lo puoi dire forte che sono un problema. È impossibile che arrivi dall'ingresso sul retro. Ho fatto fare una pausa ai vigili del fuoco. Prendete quest'uomo! Dobbiamo ucciderlo. Prima che lui uccida tutti per arrivare a noi. Miele. Schifosamente infiammabile. Chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Chi lo sapeva? Grazie a tutti.